Da oggi al cinema Scream 6, Scream 6, che ho potuto vedere in anteprima stampa un paio di giorni fa. Secondo capitolo del nuovo rilancio della saga, chiamiamolo, è un po' complicata la questione, parleremo alla fine. Oggi vi faccio la recensione, no spoiler, state tranquilli, di questo nuovo capitolo che tutti guardano con sospetto e secondo me fanno anche bene. Perché non è semplice andare a aggiungere un capitolo quinto e addirittura un capitolo sesto, ma non credo che sia finita qua, quindi preparatevi. Il film è diretto da Matt, Battinelli Holfin e Tyler Gillet, che sono gli stessi registri del capitolo 5. Anche gli sceneggiatori, che non vi sto a dire adesso i nomi, che sono tanti, sono gli stessi. E diciamo il gruppetto è lo stesso, il gruppetto di protagonisti è lo stesso che troviamo nel capitolo quinto. Ovviamente l'avete visto nel trailer e il trailer, devo essere sincero, è veramente un po' troppo spoiler. Nonostante alcune cose si intuiscono dal trailer, io cercherò di essere ancora meno spoiler su alcune cose che si vedono comunque nel trailer. Ma non le voglio rimarcare per non comunque rovinarvi il piacere di scoprire il film. Nel cast Melissa Barrera, che è la sorella grande, poi c'è Gianna Ortega, che è la sorellina piccola. Le due cosiddette nuove Scream Queen, quindi a differenza del vecchio Scream dove c'era una sola Scream Queen. Adesso qua ce ne sono due. Torna Corny Cox e poi c'è il solito gruppetto di giovani attori che non vi sto a elencare. Allora, il film inizia veramente bene, veramente bene con una scena che richiama la prima scena del primissimo Scream. La richiama tantissimo, è quasi una sorta di omaggio, di duplicazione. e succede una cosa molto particolare perché noi veniamo a conoscenza subito, ci viene spoilerato chi è Ghostface, subito nei primi minuti. e questo, secondo me, questa è l'unica cosa che vi dirò. Questo vi lascia sorpresi perché dite mo' e mo' e poi in realtà il film riuscirà a sorprendervi tantissimo proprio perché vi dice subito, vi trolla in qualche maniera, vi dice subito attenzione perché è iniziato il gioco ed è un gioco di, sì con i generi, con i generi cinematografici come ha sempre fatto questa saga, quello che è il suo spirito ma anche un gioco con lo spettatore, un gioco di ti faccio credere questo, poi quell'altro e così via. Quindi devo dire che parte bene, è molto simpatico, molto divertente ed è molto, molto, molto cattivo. Tutta la prima parte del film, secondo me, è scritta bene. È scritta bene, è scritta come uno scream dovrebbe essere scritto ed è girata bene. Troviamo un Ghostface molto più violento e muscolare rispetto ai Ghostface del passato che sono molto più, come dire, goffi, imbranati, inciampano, sono un po' anche, hanno un aspetto un po' simpatico nel loro essere così impacciati, no? Questo Ghostface è molto, molto più cattivo e questa cosa mi è piaciuta parecchio. Non vorrei fare un paragone che vide pista, però mi ha ricordato un po' il Michael Myers del primo rifacimento, insomma, del primo capitolo della nuova trilogia, un Michael Myers molto Terminator, tra virgolette. Ecco, qua troviamo un Ghostface, non così, perché Ghostface non è, appunto, Michael Myers, non è Terminator, però lo troviamo veramente più forte fisicamente, più cattivo, più determinato e meno goffo. Quindi tutte le scene a seguire di, insomma, inseguimenti, le scene, insomma, action e thriller di questo film risulteranno tutte un pochino più adrenaliniche e spaventose, soprattutto nella prima parte. Le scene, le scene di uccisioni, di ammazzamenti vari, le scene thriller sono ben studiate, sono ben studiate tutte e anche le gag sono ben studiate, anche se non sono così tante e posizionate in un modo così tanto geniale come è successo nel quinto capitolo. Per qualche istante, per qualche istante sembra di essere, e questo è veramente un azzardo da dire, però veramente all'inizio, per qualche istante sembra di essere veramente in un film Scream di Wes Craven, perché il compitino sembra fatto bene, la regia, il mood, lo stile, lo stile della narrazione, è tutto veramente in stile Wes Craven, fatto veramente molto molto fotocopia possiamo dire, ma io direi più che l'allievo ha capito come si racconta in quella maniera, con quello stile e l'ha riprodotto perfettamente. Allo stesso modo la fotografia è molto convincente e molto alla Scream. A me è piaciuta parecchio, perché è stato uno degli elementi che mi ha aiutato a farmi sentire in uno Scream. La fotografia di Brett Jutkiewicz, che è un direttore della fotografia abbastanza giovane, con alle spalle non troppa roba e i più recenti sono tipo Blackphone e Finché morte non ci separi e purtroppo anche Stranger Things. Comunque devo dire che ho voluto segnarmi il nome perché non tanto perché la fotografia sia eccezionale, ma è un'ottima fotografia che però veramente riesce a buttarci in quel clima lì, per cui è un aspetto che mi è piaciuto. Per ora sono solo nella parte degli elogi perché la parte iniziale è la parte da un certo punto di vista migliore, la prima parte di film. Concludo parlando un po' dell'aspetto horror thriller. Ci sono delle scene molto violente. C'era qualcosa anche nel quinto. Qua le scene sono molto violente. Si parla proprio di anche budella di fuori, accoltellamenti molto violenti. Qualcosa viene nascosto ma alcune uccisioni vengono mostrate. Quindi è un film veramente che va verso quel fanservice che vuole un po' appagare quelli che cercano anche la violenza nei film horror. Poi a un certo punto però, a un certo punto il film, un film che veramente sembra, sembra farti quasi gridare al miracolo, per come inizia, poi inizia un po' a perdere colpi. Un colpo lo perde, un grosso colpo lo perde e fa storcere il naso, soprattutto a chi è più attento magari alla sceneggiatura, a queste cose qua, quando ci rendiamo conto che Neve Campbell non c'è, ma noi ci rendiamo conto che non c'è per una ragione sbagliata. Neve Campbell non c'è, e qua magari sposto la polemica perché vorrei dire qualcosa su questo aspetto, perché ha rifiutato di partecipare al film per il cachet troppo basso. Il problema sta nel fatto che questo film è stato pensato con Neve Campbell e si vede, si vede che c'è a un certo punto un intoppo e c'è una toppa sulla mancanza, una toppa di sceneggiatura sulla mancanza di Neve Campbell che sembra veramente una goffa scusa, una scusa ridicola, una scusa ridicola inserita nella sceneggiatura è qualcosa che io non posso tollerare. Cioè fallo bene, non c'è, cambia la storia, cambiala in modo che la cosa funzioni. Quindi grazie Ubi per i 10. Lì inizia un po' a crollare un pochino il film, anche se devo dire che si riesce a guardare tutto fino alla fine, la parte meno convincente ma che poi si risolleva per altri aspetti che piaceranno molto di più agli orofili che agli altri, arriviamo a un punto in cui la sceneggiatura diventa una versione ridicola dei finali degli altri scrim. Cioè una versione un po' più ridicola dei finali, un po' più assurda e un po' troppo surreale, troppo, come dire, inverosimile. Quindi avremo un finale alla Scooby-Doo ma non è un, non è un, dire un finale alla Scooby-Doo non è un difetto. Anche il Scrim 1 ha un finale alla Scooby-Doo. Uh sei tu cazzo, proprio il mio fidanzato, proprio quello. Cioè è, non è tanto quello, il finale è alla Scooby-Doo ma alla Scooby-Doo all'ennesima potenza. Diventa un po' troppo, troppo inverosimile quello che spinge poi, anche se devo dire che non è prevedibilissimo, anche se io verso la fine qualche sospetto ce l'avevo. Al di là di, appunto, quando arriva questo finale alla Scooby-Doo un po' troppo tirato, un po' troppo, poco credibile, allora un po' il film perde il suo fascino, perde anche tutta la sua tensione thriller, perde, non lo so, è lì che si allontana, inizia ad allontanarsi da Scrim, la saga. A quel punto subentra una parte che non è, non è, non è spiacevole, di estrema violenza. C'è un combattimento, ci sono dei combattimenti, ci sono sempre dei combattimenti, questo non è spoiler. Ci sono dei combattimenti in finale in Scrim che sono veramente violenti, veramente cattivi e richiamano poi quelle che sono le reazioni tipiche di una Scrim Queen, di un film della saga di Scrim, quindi va benissimo. Quindi da quel punto di vista non è, non è un film che poi riesce a mantenere quel livello fino alla fine. Non riesce ad essere Scrim come è stato Scrim, come è riuscito ad essere Scrim, pur con tutti i suoi difetti, il 5, questo riesce ad essere Scrim solo fino a un certo punto. Poi a un certo punto inizia un po' a perdere colpi. Detto ciò ci sono anche cose interessanti dentro. Dal punto di vista veramente della gestione delle scene thriller, è veramente fatto bene, è proprio entusiasmante, ti diverti. Spiace che una delle scene più carine sia quella della metropolitana, ma sia in realtà molto breve, non molto più lunga di quanto vediamo nel trailer, quindi è veramente un peccato che non tanto che sia stata messa nel trailer, ma che non sia stata sviluppata di più come scena, perché siamo a New York e c'è veramente poco di New York, secondo me. La città poteva diventare un grandissimo personaggio all'interno di questo film e in realtà non lo diventa, è semplicemente una location nuova rispetto alle altre location che sono state usate, quindi non mi è piaciuta questa scelta. L'ultimo combattimento, alla fine io mi sono annotato che è bello, non so perché ho messo questo aggettivo, quindi mi sento di poter dire che è divertente, molto divertente, è una cafonata divertente il combattimento finale. Mi soffermo un attimo a parlarvi degli attori, perché è un'altra di quelle parti, la parte recitativa, che io unirei insieme anche alla scrittura dei personaggi, che mi ha convinto e non convinto, cioè buone le performance attoriali di Dermont Marroy, che è un attore piuttosto famoso, che ha tantissima esperienza e nel film ci vuole, ci vuole lui, perché non ci sono tanti altri attori con esperienza dentro. Serviva, brava sempre Jenna Ortega, che sembra veramente che gli riesca tutto benissimo, anche se poi alla fine sembra sempre di vedere lo stesso personaggio in tutti i film. Buoni anche i ragazzi del team, perché c'è il team dei ragazzi che devono essere uccisi. Molto meno, secondo me, è Eden Panettieri, per me, inguardabile, e Melissa Barrera, che è la sorella grande, anche lei inguardabile. Ma non solo per come loro recitano, anche per i personaggi che gli sono stati scritti, che sono grotteschi, sono troppo sopra le righe. Melissa Barrera sembra, non lo so, è troppo un personaggio grottesco, estremamente rabbioso, non lo so, non ha delle sfumature convincenti. Purtroppo io il film l'ho visto in lingua doppiata, quindi sicuramente li sto valutando peggio di quello che hanno fatto, perché per esperienza personale difficilmente il risultato doppiato è migliore della recitazione normale, anche quando gli attori non sono bravissimi. Molto difficilmente, quindi un po' li penalizza il fatto che io abbia visto il film doppiato. Eden Panettieri, che interpreta un personaggio che non vi sto a dire, perché anche questo sarebbe un piccolissimo spoiler, non credibile, cioè il personaggio che le fanno interpretare non è credibile. A parte questi due personaggi, gli altri più o meno se la cavano tutti abbastanza bene, però ecco è un altro di quegli aspetti che un po' ha reso il film un po' finto, un po' fittizio, cioè personaggi sopra le righe in un film che secondo me non dovrebbe avere personaggi sopra le righe, perché anzi quelli di Scream sono molto realistici, quelli di Scream 1, perché è il film che è sopra le righe, il film di per sé è un po' fuori di testa, succedono cose un po' ridicole, perché è un film che trolla il genere, è un film che prende in giro il genere slasher, si autoprende in giro, quindi non dovrebbe succedere questa cosa qua. Courtney Cox, ecco, anche lei spiace, se voi prendete una scena da un altro Scream, la mettete dentro questo Scream, con le stesse battute, gli mettete più rughe di quelle che ha nel film precedente, la potete usare al posto di Courtney Cox oggi, cioè stesse battute, stesse scene, stessi siparietti, tutto uguale, non so, è evoluto, forse sì, però a me la cosa è risultata stucchevole all'ennesima potenza. Un altro aspetto, un pochino, che fa diventare surreale il finale del film è la quantità infinita di coltellate che le persone prendono senza crepare, o comunque prima di crepare, insomma, diciamo, è molto inverosimile da questo punto di vista, voi direte, ma è una caratteristica di Scream? No, non è proprio così, una caratteristica di Scream è che Linus si piglia tantissime coltellate e miracolosamente è salvo, non che tutti si pigliano tantissime coltellate e continuano a camminare, continuano a combattere, continuano a fare cose, quindi questo veramente è uno degli aspetti che è un po' stato tirato un po' troppo fino al limite. Al di là di tutto questo, c'è un aspetto interessante che è sicuramente molto difficile da non spoilerare, che è quello del... su che cosa ironizza questa volta Scream? Cioè, se Scream 5 ironizzava su i Requel, appunto, è tutta una serie di mischioni e... c'è un tema anche qua, e questo tema, che in questo film c'è e si... e io ho apprezzato, ho apprezzato l'idea, ho apprezzato l'idea di questo... scusate, che cazzo... ho apprezzato l'idea che c'è in questo Scream, il colpo di scena che c'è in questo Scream è così imprevedibile che ve lo dovrà spiegare il film a un certo punto, ci sarà un personaggio che spiegherà, ah ecco, il colpo di scena è questo, cioè è... è veramente geniale in un certo senso, da un punto di vista di sceneggiatura, l'ho apprezzato, però è un colpo di scena talmente assurdo che non si capisce, quindi è un aspetto che mi è piaciuto, però alla fine, alla fine dei conti, mi sento di dire che il film mi è piaciuto leggermente meno di Scream 5, leggermente meno, come... però che è un film che funziona abbastanza bene, sembra quasi un film a sé, sembra quasi un film a sé, forse perché questa saga vuole a un certo punto cambiare, sta facendo un refresh, sta inserendo nuovi personaggi che faranno andare avanti, altri personaggi no, e quindi c'è forse la sensazione che questo film voglia un pochino... perché forse pensa di non poter sopravvivere la saga se non crea un nuovo ciclo, non crea una serie di cose nuove, quindi sicuramente... però ecco ci sono degli errori, due o tre cose un po' che non mi sono piaciute e che me lo fanno giudicare come un film, niente di che, però allo stesso tempo in qualche maniera per il rotto della cuffia mi viene da dire che la saga di Scream comunque dal capitolo 1 al sesto è una saga comunque dignitosa e questo capitolo non fa grossi danni, anzi apre a tutto un nuovo modo di interpretare il mondo di Scream che forse non piacerà più agli amanti della saga originale o forse piacerà, non lo so, ci sono dei personaggi, uno tra questi è Loomis il cattivo del primo Scream che è il papà della protagonista Sam Carpenter e lei vede nella sua immaginazione perché è psicopatica, almeno così ci fa credere il film, che lei sia psicopatica e che lei possa diventare pazza come il padre, quindi c'è sempre questa cosa aperta. Ecco c'è una parte finale che piacerà tantissimo, tantissimo agli amanti della saga, soprattutto quelli che ricordano ogni singolo evento, ogni nome, ogni dettaglio. Ecco per loro ci sarà un momento estremamente fanservice, piacevole probabilmente. Basta, questo è un po' tutto quello che c'è da dire. Adesso leggo i vostri commenti, se avete delle domande chiaramente che non implicano spoilerare, vi rispondo e poi vi dico un po' cosa penso di questa questione che Neve Campbell non ha partecipato al film e il perché.